Ciao a tutti, oggi come vi avevo accennato voglio parlarvi di iRig Blueboard, eccola qui. Che cos'è iRig Blueboard? È una pedaliera Bluetooth, quindi senza fili, che ha quattro pedali e, cosa molto interessante, due ingressi per dei pedali che possono essere pedali del sustain, pedali d'espressione, switches e tanto altro. Quali possono essere i potenziali utilizzatori, per esempio i chitarristi che utilizzano software come Amplitube o Guitar Rig, per esempio per cambiare i suoni, per magari utilizzare i Tap Delay, per, se collegando un pedale d'espressione, per controllare il Wawa. Ovviamente non voglio parlare di chitarre non essendo chitarrista io, mentre invece voglio parlare del discorso delle tastiere, perché appunto iRig Blueboard può mandare program changes e control changes vari, per esempio se avete un controller che non ha la possibilità di collegare un pedale d'espressione, però dovete controllare suoni come Emmond, Archie, che necessitano del pedale d'espressione, questa può essere una soluzione interessante. Questo è uno strumento che uso da tanti anni, l'ho preso nel 2016, quindi non è una cosa diciamo di cui stia facendo la pubblicità gratis, ma il valore diciamo di questa mia piccola recensione è più che altro appunto di una persona che lo usa da tanti anni, quindi mi sembrava carino parlarne. Anche perché tra l'altro è un prodotto italiano, perché è prodotto da IK Multimedia, che ormai credo che abbia una carriera ventennale buona, perché appunto ha prodotto software come Amplitube, che vi ho nominato prima, Sample Tank, T-Rex per il mastering e un sacco di altri software molto belli, e da qualche anno ha iniziato a produrre prodotti anche hardware dedicati come questo, questa Airy Keys che io trovo molto utile per andare in giro, e io questo qua appunto l'avevo preso all'epoca per il tour di Sugo di Eugenio Finardi del 2016 appunto, spesso ci capitava di fare concerti dove richiedevamo un backline sul posto, quindi sempre il problema di controllare questi strumenti, di magari non c'erano pedali d'espressione, per me come ho detto il pedale d'espressione è molto importante, quindi questa è una cosa che potevo mettere nel mio zainetto, e invece insieme ai miei due MacBook Pro, insieme alla scheda audio, era pesantissimo ma si poteva portare. Questa pedaliera è compatibile Bluetooth 4.0, che non so esattamente cosa voglia dire, detto chiaramente nel senso, perché sono ignorante al riguardo, ma quel che posso dirvi è che io l'ho utilizzata su un MacBook Pro del 2012 e funziona, tuttora lo utilizzo anche lì, su un MacBook Pro del 2010 invece non funziona, funziona ovviamente non solo su Mac ma anche su Windows, funziona su dispositivi iOS, purtroppo non su Android, questa è una pecca, e può a seconda delle configurazioni mandare sia dei control changes ma anche delle note, però con un sistema che onestamente io non ho ben capito, quindi diciamo vi spiegherei un attimino come l'ho utilizzata io. La prima cosa che fate, quindi una volta acquistato lo strumento, è registrarvi sul sito IEK Multimedia e scaricare una app che fa praticamente da bridge, cioè una cosa che lasciate lì aperta e intanto usate gli altri software, che nel mio caso erano main stage o logic, ma può ovviamente funzionare su qualunque altro software. Vediamo un attimino come funziona. Eccoci qua, ecco questa è l'applicazione che vi scaricate, quindi una volta che accendete la blueboard, normalmente appunto la facciamo così, ve la spengo per farvi vedere cosa succede, appunto una volta che noi la colleghiamo, normalmente vi chiede di selezionarla, e abbiamo due modi di funzionamento, che sono questi, appunto il program change mode e il control change mode. Nel caso del program change abbiamo anche questo bank change, che praticamente funziona così, ve lo faccio vedere velocemente, che è questa cosa qui, praticamente noi possiamo mandare dei program changes da 1 a 4, poi tenendo premuto il pedale A per qualche secondo, ci spostiamo al banco successivo, e possiamo utilizzare quindi questi altri 4 program changes, se teniamo premuto invece il B torniamo indietro, è un sistema che in realtà io non l'ho mai utilizzato, perché ho utilizzato altri sistemi, però era giusto parlarne, mentre invece appunto se noi andiamo su quest'altra funzione, sul control change, secondo me è più interessante, e allora possiamo, è qualcosa di interessante che appunto, possiamo calibrare i nostri pedali, che colleghiamo ai due ingressi, quindi praticamente se vediamo qua, io ho già collegato il pedale all'ingresso 1, metto il pedale tutto a 0, poi lo metto tutto al massimo, e il pedale è calibrato, e come vediamo qui abbiamo la risposta del nostro pedale, che come vedete comunque è relativamente lineare, col control change mode, noi possiamo appunto decidere di assegnare dei control changes, a questi 4 pedali, e la cosa diventa interessante, come possiamo decidere che cosa mandare al pedale, per esempio adesso qui manderò l'expression, se ne avessi un altro potrei mandare quello che desidero, andiamo a vedere, però volevo proprio farvi vedere il setup di main stage, di quel tour lì, eccolo qua, allora io avevo segnato il cambio di patch, ai primi due tastini, visto che anche graficamente vediamo l'avanzamento e indietreggiamento, quindi per me era comodo, il pedale era segnato in questa maniera, quindi molto semplice, quindi vedete io posso avanzare, e indietreggiare nelle varie patches, e ho assegnato qui a questi due tastini, che appunto corrispondono ai due pulsantini del caso, varie funzioni, ecco per esempio su questo brano, che è soldi, avevo un piano acustico, che era doppiato in alcuni punti da un piano elettrico, premendo il tastino, appare il, sentiamo questo piano elettrico, che è questo, che si somma, così non c'è più, e così c'è. Poi c'era un campione, una cosa che in realtà avevo messo sul playback di main stage, che appunto era questa cosa qui, che sentite, questa cosa col violino, appunto che facevo partire da lì, ad un punto preciso, non era una cosa a tempo, quindi non c'era click, nulla, però era utile. Andando avanti, ecco per esempio, qui interviene sia il pedale, sul, sull'espressione dell'Hemmond, sia il, invece, sia invece lo slow fast dell'Hemmond, tramite appunto questo pedalino qui, andiamo avanti, ecco c'era per esempio, questo brano qua, in cui invece al pedale, io avevo segnato, l'apertura di un filtro, per cui, potevo fare questi giochini qua, un altro esempio che mi veniva in mente, era qui invece dove, avevo anche qui un'altra, un'altra sequenzina, c'è sequenza sempre di una robina col violino, e soprattutto in questa parte alta, avevo questo, questo piano con l'arpeggiatore, che con questo tastino, potevo spostare di ottava, io avevo, all'epoca avevo scelto di avere una sola tastiera, per così, per comodità, e quindi una tastiera sola a 88 tasti, avevo cercato di avere un 100% di compatibilità, ecco visti anche esperienze precedenti, soprattutto quando si andava in giro con strumenti che non erano i miei, con un altro esempio che volevo farvi vedere, era qui, su questo brano, in cui invece utilizzavo per, il tap tempo, quindi io praticamente, come vedete, cambiavo, cambiavo un po' in corso, il brano aveva questo delay a tempo, il brano è Patrizia, che appunto è un brano caratteristico, per questo delay a tempo, vedete che era un'idea che insomma aiutava appunto, perché visto che appunto non c'era un click, quindi non avevo potuto settare una cosa, non avevamo in realtà click, nessun brano, era tutto assolutamente live, ci sono proprio solo questi campioni che avevo fatto dal disco originale, ma vi rimando magari anche al video in cui raccontavo il setup di sugo, così vi vedete un po' di altre cose, ovviamente l'ho utilizzato qui, ma l'ho utilizzato in altre situazioni, l'ho utilizzato per esempio recentemente per cambiare con le songs su Camelot, proprio nell'ultimo video in cui avevo accennato a questa recensione, insomma veramente i limiti sono la nostra fantasia, quindi un prodotto che veramente mi sento di consigliare, se ovviamente è una cosa che in qualche modo può esservi utile, perché dopo appunto quasi cinque anni di utilizzo live, non ho mai riscontrato particolari problemi, affidabile, fatto bene, versatile, mi piacerebbe forse avere ecco, se dovessi fare una critica, la possibilità di anche da questa applicazione, di poter selezionare eventualmente delle note, questo potrebbe essere utile, però ovviamente questa è una mia esigenza, non è detto che sia condivisibile, però appunto ribadisco uno strumento molto interessante. Quindi spero che questa recensione vi sia stata utile, ovviamente iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto, se vi è piaciuto il video, mi ripeto, mettete il mi piace, fatelo sempre su chiunque su YouTube, perché è sempre un gesto, un premio per noi che dedichiamo un pochino di tempo a questi video, e ci vediamo presto, ciao!